Domenica 9 ottobre all'interno dell'ex chiesa Santa Maria del Gonfalone in via Rinalducci in centro a Fano verrà presentato l'anno sociale 2022-2023 dell'Università dei Saperi Giulio Grimaldi, realtà, nata nel 2004 nell'ambito del progetto della Regione Marche Anziani come risorsa. Lo scopo è quello di dare a tutti la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e competenze, sviluppare attività artistiche e manuali in espresse. Ricco il programma che vede ben 45 corsi ai laboratori, una sezione speciale e 5 ulteriori corsi di cui uno sperimentale di lingua latina e poi eventi, conferenze e cicli di incontri. L'appuntamento del 9 ottobre aperto al pubblico dalle ore 17 vedrà anche un momento di esecuzione di brani dal 700 alla contemporaneità curata dal pianista Riccardo Maria Ricci. In realtà saremmo un'università cosiddetta della terza età anche se alla nostra associazione si può iscrivere chiunque. Anche quest'anno abbiamo messo in piedi un ricco programma come un corso di approccio alla lingua latina, un corso che si chiama Icone del 900 e che durerà per tutto l'anno e verranno trattati personaggi femminili che nel 900 sono state considerate delle vere e proprie icone. Chiaramente abbiamo tanti corsi, oltre a quelli tradizionali di lingue, di storie, di filosofia, anche corsi particolarmente nuovi. Per esempio il corso di astrofotografia che faremo in collaborazione con Giulio Fraticcioli dell'ottica da rossa di Fano, praticamente ci insegnerà come fotografare le stelle e tanti altri che adesso non sto a citare perché sono moltissimi. La nostra associazione è aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, il Via dei Cuppis 7, per chi volesse effettuare l'iscrizione, che è di circa 30 euro per la tessera. E poi tenete conto che ci sono una serie di corsi a pagamento, come sempre, ma moltissimi corsi che sono praticamente gratuiti, perché il costo è di 5 euro. E molti gli eventi che sono rivolti alla cittadinanza, circa una dozzina, costituiti da conferenze di vario tipo, di vari argomenti, molte di contenuto scientifico, come ci è piaciuto fare ormai da almeno un paio d'anni.